Bella a tutti ragazzi e ragazzi, qui è Frank Rockstorm. Oggi siamo su Clash Royale per portarvi qualche 2v2. Prima di iniziare il video voglio dire qualcosa di serio però. C'è stato il terremoto a Isola d'Ischia e nel clan abbiamo una persona che è di quelle parti. Non si trovava proprio nell'epicentro ma in più in là e quindi ci è andata fortunata anche. Vorrei sostenerla moltissimo e vorrei che lo faci sta anche voi. Lasciate un bel like a questo video mi raccomando. Noi del clan gli abbiamo detto che siamo molto vicini a questo. Quindi supportate anche voi e lasciate un gran pollicione in su. Ma comunque bando alle ciance che non sono proprio ciance però. Cominciamo dai. Questo è il deck che uso. Nelle 2v2. Il normale sono questo qua con il mastino. Che mi sto portando alla mongolfiera al livello 7. Dai. Partita veloce, ricerca giocatori. Ok, questo qua sicuramente la perderemo. Vabbè con la mongolfiera al quattro dove cazzo devi andare? Vabbè con la mongolfiera al quattro ci puoi callare una torre. Ma ne andiamoci conto. Fatemi sapere anche a quando siete arrivati nella sfida del gran cavaliere. Il mio massimo è stato 9. Che cazzo butti la tronco se sono truppe ad aria. Di sgherra. No, no, no. Vabbè, io devo stare coi incoglioniti poi. Ho sbagliato, io devo stare coi incoglioniti. Ho sbagliato, io devo stare coi incoglionati. Pensavo non buttassero la tronco. Partita equilibrata, per lo più. Sì, saluta la torre. Sì, però adesso lui avrà i cosi. Va bene, dai, va bene. Io le frecce le ho usate. Oh, no, madonna. Cazzo butti, dai. Uh, bella partita. Una grandissima partita. Dai, facciamone un'altra. Tra poco dovrei avere anche un baule super magico. Non so se ve ne siete accorti. Baule leggendario e magico sto conservando per un super mega chest opening. Perché dopo il super magico, 12 baule dopo, mi esce il baule magico. Quindi... Al posto dell'e sarebbe la A in questo avversario. Nei, madre, forse voleva scrivere. Facciamo di attaccare, tanto non fanno troppo danno. Solo 300, 500 di vita hanno tolto alla torre. Niente di che, dai. Di certo. Qui tutti e due abbiamo fatto la cazzata, eh. Gli sta. Prendi. Ciao. No, bastardo ha buttato quello stregone elettrico. Pensavo fosse finita la torre. Invece no. Beh, sempre finita è quella torre. 314 da una cazzata mamma. Uuuuuh. Dai, daglielo quel colpo. Questa cosa è rotta. Perfetto. Benissimo. E basta. Ciao torre. Ciao. Ciao altra loro torre. Eh eh eh. Bella partita. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Partita finita per 3 a 1. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.